Oggi partiremo con le lezioni base di romagnolo per capire come approcciarsi alla lingua romagnola. Per quanto riguarda la S in italiano normalmente diremmo Ro-Za, sbagliatissimo, in romagnolo è Ro-Za, quindi la S diventa una carriolata di S, C e I a seconda di quando la vogliamo strabligare. Mentre l'altra cosa fondamentale è la Zeta, normalmente in italiano diciamo PIZZA, in romagnolo è PIZZA. Partiamo con un'altra parte basilare, le 5 W. Partiamo con il Where, il Dove. Do sit, do vet, do stet, do sit, ha so esnatico, sono a cesenatico. Do vet, a vaga marena, vado al mare. Partiamo con la seconda W, Wot, tipiche espressioni in romagnolo sono S, DIT, SAFET, cioè cosa dici, cosa fai. La terza W, Q, una tipica espressione che si può sentire in romagna con Q, è TE, KISITE e FIOL, cioè tu di chi sei il figlio, che non indica la volontà di sapere che è tua madre o che è tuo padre, ma indica la volontà di capire a che casa ti appartieni. QUEN, QUANDO, tipica espressione che si può sentire per la via di cesenatico, di quando una persona è venuta da fuori, è QUEN CI RIVER, quando sei arrivato, che si va a collegare subito alla quinta, che è Y, perché? Perché CI NU? Perché CI QUA? Perché sei venuto? Perché sei qua? Abbiamo anche il teatro. E con questa, AF SALUT. E con questa, vi saluto. E con questa, vi saluto.